Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale Feri ASMR, io sono Federica e quello che state per guardare è un nuovo video ASMR pensato per il vostro rilassamento. Mi vedete vestita uguale a un altro video perché oggi è giornata di video e ne sto registrando diversi in sequenza. Almeno questi due. Bene, in questo video che vi invito ad ascoltare come al solito con le cuffie oppure con gli auricolari per godervi appieno la mia voce sussurrata in whispering e giù in infobox trovate un link affiliato a delle ottime cuffie per ascoltare proprio la ASMR mentre siete coricati nel letto, le sleep phones. Dicevo oggi voglio fare un bilancio di questo 2019, so che ancora non è finito ma mancano pochi giorni e quindi voglio parlarne con voi. Nel frattempo vi invito a mettere mi piace a questo video, naturalmente se l'idea vi piace e ad iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdere i prossimi video rilassanti. Alla fine di questo video annuncerò anche le due persone che hanno vinto le sleep phones che ho messo in palio in un giveaway di qualche giorno fa. Sono delle sleep phones in edizione limitata, edizione speciale, contenenti diverse ore di ASMR con le voci di tantissimi artisti del panorama mondiale tra cui ci sono anche io con una traccia in edita che spero tanto vi piaccia. Trovate anche il link per acquistarle e comunque se non siete tra i vincitori ma direi di iniziare. Allora spero che questo video sia di ispirazione per qualcuno di voi perché so che molte persone che mi seguono hanno attraversato un periodo simile al mio durante quest'anno o negli anni precedenti mi avete scritto in tantissimi durante gli ultimi 12 mesi e molti dei vostri messaggi erano messaggi di sostegno di supporto perché ho attraversato davvero un periodo difficilissimo. Penso che il 2019 sia stato in assoluto l'anno peggiore della mia vita da adulta. Sono accadute tante cose. Ho dovuto affrontare una perdita. Ho dovuto affrontare un periodo di lontananza da una persona alla quale voglio molto bene e ho dovuto affrontare dei cambiamenti a livello lavorativo che ancora non si sono completamente risolti. Quindi la situazione ad oggi è ancora un po' fumosa, incerta, instabile. È anche probabile che come conseguenza di tutto quello che mi è accaduto io non possa restare troppo a lungo in questa casa. Questa che per me è la casa che rappresenta il mio traguardo di indipendenza il mio piccolo grande progetto tanto desiderato che è divenuto realtà dopo diversi anni di impegno e di sacrificio. però non tutto il male viene per nuocere infatti proprio alla fine di quest'anno è successo qualcosa di inaspettato. diciamo che i miei amici soprattutto mi sono stati sempre, 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 sempre molto vicini e non solo per aiutarmi a divertirmi a non pensare alle cose brutte ma anche nell'ascoltarmi nel fare quattro pianti insieme qualche volta, confrontandoci sulle nostre vicissitudini personali e sui nostri trascorsi e proprio gli amici oltre che naturalmente i miei affetti più cari sono stati un ancora di salvezza durante le giornate più difficili di quest'anno ci sono stati infatti dei giorni in cui davvero mi sembrava che tutto fosse perduto e ancora oggi qualche volta quando mi interrogo sul mio futuro non riuscendo a stabilire con certezza quale sarà il destino a cui andrò incontro sento una sorta di tristezza e un po' di ansia ma devo imparare anche ad accettare di non poter avere il controllo proprio su tutto e va bene così comunque il canale youtube è stato sicuramente un altro punto fermo so di aver pubblicato in maniera un po' ballerina durante quest'anno prima appunto per via del lavoro poi per via di alcune vicende personali che si sono accavallate e incastrate tra loro generando molta confusione e levandomi la maggior parte del tempo libero però come avrete potuto notare non mi sono mai assentata ho voluto fino all'ultimo mantenere fermo questo mio progetto del canale youtube sia perché mi interessava mantenere un rapporto con voi e in verito a questo vi devo ringraziare tanto 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 per il vostro continuo supporto voglio ringraziare gli abbonati al canale che lo sostengono anche economicamente e voglio ringraziare quelli tra voi che sono più attivi che commentano sempre trovano sempre un po' di tempo per lasciare un like che sembra nulla ma invece è tanto soprattutto perché mi aiuta a capire quali contenuti vi piacciono di più e quindi quale riproporvi grazie al canale youtube ho potuto conoscere tante persone sono stata a Milano a un evento organizzato proprio da google dove c'era la mia amica Fiorella dove c'era anche Chiara e Giulia che conosco da diversi anni e tante altre persone che ho conosciuto proprio lì Mattia, Gianluca e Stefanino che ho conosciuto sempre a Milano però non in occasione dell'evento di youtube ma prima tante 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 persone insomma che mi hanno portato qualcosa di nuovo all'interno della mia vita mi hanno portato ognuno qualcosa chi un sorriso, chi un'occasione, chi un'opportunità, chi un modo diverso di vedere le cose ho fatto durante quest'anno tante 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 collaborazioni interessanti ho conosciuto di persona due ragazze splendide che sono Sara e Velia Sara del canale Sara J ASMR Velia del canale Black Moon ASMR ho avuto anche l'occasione di incontrare Fiorella la splendida Fiorella di Click My World ASMR e la meravigliosa Kiki di Hermetic Kitten ASMR alla quale mando un bacio enorme con la quale ho organizzato il primo evento ASMR in Italia, qui a Roma un'esperienza bellissima ho registrato anche il primo podcast ASMR che trovate su Audible e tra l'altro giù in descrizione potete scaricare il podcast direttamente dal link che vi lascio ho conosciuto anche in occasione della registrazione del podcast delle persone molto interessanti e con le quali ho instaurato subito un feeling è stato davvero 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 molto molto bello questa estate poi sono andata in vacanza al mare ed è stato piacevole sono stata a Sorrento e nella Costiera Morbidana dove ho trascorso alcuni giorni in completo relax insieme alla mia migliore amica e è un'esperienza che porto nel cuore perché in un momento triste sono riuscita a ritrovare il sorriso ho iniziato anche un percorso di psicoterapia che mi sta aiutando tantissimo a lavorare su degli aspetti di me che avevo dimenticato e che non ho curato per molto tempo ma che devo assolutamente tenere in considerazione perché è importante svilupparli e prendere per mano anche quella parte di me che non sa essere forte io sono una ragazza molto molto forte che dimostra sempre molta resilienza però appunto c'è una parte di me che ha bisogno a volte di essere consolata e penso che questo valga per tutti quindi il mio lavoro adesso su me stessa consiste nel prendere per mano questa parte di me e accompagnarla a fare esperienza del mondo e metterla in contatto con delle emozioni profonde tutto si completa alla fine di quest'anno tutto si completa alla fine di quest'anno con incontri e personaggi che entrano in scena così come in un teatro e a proposito sono stata diverse volte a teatro è qualcosa che non ho fatto per molto tempo ma che mi piace tantissimo sono molto contenta perché sto facendo tante esperienze nuove e intriganti e mi mancava questa esplorazione quindi mando un messaggio alla mia futura me che riguarderà questo video magari tra un anno non so come entrano le cose non so se quando starei ascoltando questo messaggio sarai felice o triste ma io sono con te e ti voglio bene io mi voglio bene tu sei la persona più importante per me e non farò mai più niente che possa farti del male io ti ascolterò sempre e farò attenzione ai tuoi bisogni e ai tuoi desideri hai tante persone dalla tua parte ma prima di tutti tu sei dalla tua parte io sono dalla tua parte e mi prenderò cura e mi prenderò cura di te sempre scusate se questo messaggio vi sembrerà un po' selfish ma ne avevo bisogno a volte a volte c'è proprio bisogno di ricentrarsi e di stare bene con se stessi spero tanto che questo video vi sia piaciuto e che il vostro anno e che il vostro anno in fin dei conti sia stato bello e soprattutto che il prossimo sia ancora migliore vi mando tanti tanti bacini fatosi e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video ciao adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace? iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte